Ben trovate all'Orlando Furiosa, amici di Prima Radio. Oggi è giovedì 11 novembre. Vi parlo di Partinico, che era uno dei paesi più importanti non solo della provincia di Palermo, ma anche dell'intera Sicilia, anni fa. Lo era anche per numero di abitanti, uno dei primi paesi a superare la soglia dei 30.000 abitanti, ma un tempo, perché adesso, negli ultimi anni, è stato superato da altri paesi della provincia di Palermo per numero di abitanti, perché logicamente in tanti da Partinico sono scappati, soprattutto le nuove generazioni. Perché? Perché Partinico è diventato un paese invivibile, ha fatto una caduta verticale dopo aver vissuto gli anni più belli della sua storia, purtroppo dovuti, tra gli anni 60, 70, 80, ad un connubio solido e produttivo tra mafia e politica. Parliamo di tempi vecchi, quando la mafia e la politica erano sicuramente diverse da quelle che poi sono state dagli anni 90 in poi. Quel connubio tra mafia e politica ha portato Partinico ad essere una delle città più importanti della Sicilia. C'erano i negozi, c'era un centro commerciale naturale, si sono costruite le scuole superiori, molte scuole superiori, e per questo Partinico era diventato il riferimento dell'intero golfo di Castellammare. E non era assolutamente un caso che in quegli anni c'erano diversi rappresentanti partinicesi, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. Intanto perché i politici avevano uno spessore sicuramente diverso, importante, erano bravi. Poi perché c'era, ripeto, questo connubio tacito tra mafia e politica che produceva i suoi frutti. E quello che sto dicendo non deve creare nessuno scandalo perché in Sicilia era così. E purtroppo è brutto ammetterlo, ma devo dire che si stava meglio. C'erano degli equilibri che poi sono scomparsi e il livello di vita in Sicilia è peggiorato. E Partinico è il tipico esempio di un paese siciliano che era fiorente e che poi è caduto in un baratro senza fondo. Perché? Cosa è successo a Partinico? Ma così come è successo in tanti altri paesi siciliani. Quando è terminato questo connubio tra un certo tipo di mafia e quel tipo di politica è successo il caos perché i comuni non erano abituati a gestirsi in totale autonomia. Col passare degli anni però gli altri comuni sono riusciti piano piano a venirne fuori e adesso hanno una gestione pressoché sufficiente. Partinico invece è rimasta ferma a quegli anni del caos. Tanto è vero che l'incapacità dei politici che si sono succeduti ha portato poi il paese al commissariamento per infiltrazioni mafiose. Però vi faccio fare una riflessione. Nel corso degli ultimi anni tantissimi paesi siciliani sono stati commissariati per infiltrazioni mafiose mentre un tempo non c'erano infiltrazioni mafiose ma c'era un tutt'uno tra mafia e politica. È inutile girarci attorno. La verità è questa. Con l'avvento della seconda repubblica invece si sono accorti che in Sicilia c'erano infiltrazioni mafiose nei paesi e sono iniziati i commissariamenti per infiltrazioni mafiose. Uno di questi è Partinico che è stato commissariato per infiltrazioni mafiose nel luglio del 2020 e lo sarà fino al febbraio del 2022 salvo prolungamenti. La gestione dei commissari prefettizi è particolare perché loro vengono nominati con l'obbligo di far pulizia, di trovare le infiltrazioni mafiose e eliminarle radicalmente. Di conseguenza hanno un rapporto strano con i paesi, hanno un'amministrazione molto chiusa e sono del tutto non ricettivi alle sollecitazioni degli abitanti. Sicuramente il periodo di commissariamento prefettizio è un periodo ulteriormente buio per tutti i paesi. Partinico che nel Baratro già era da tempo prima che arrivassero i tre commissari attuali sta ulteriormente peggiorando. Cioè nell'ordinaria amministrazione quando succede un danno resta così per com'è, si spegne una luce e resta spenta, c'è un problema in una strada e la chiudono, c'è una scaffa a terra e non la riparano. Tutto praticamente è abbandonato al suo destino. Vi porto ad esempio la via Mantegna. È una strada la via Mantegna che porta da Viale dei Platani alla via Madonna del Ponte dove c'è un grosso deposito di alimentari. Quindi la via Mantegna è transitata da mezzi pesanti ma in via Mantegna c'è anche un centro di assistenti anziani. Ci sono delle abitazioni private ma lì in via Mantegna ci sono delle scaffe profondissime che sono perennemente piene d'acqua e nessuno se ne preoccupa. Ora io mi rendo conto ad esempio che i commissari hanno problemi ben più gravi della via Mantegna. Poi non capisco quale potrebbe essere il problema più grave in un paese di una strada che è pericolosa al transito perché passando con uno scooter o con un motorino si rischia davvero la vita. Però evidentemente i commissari hanno dei problemi più importanti ma mi chiedo nessun funzionario comunale a Partinico si accorge che c'è questa via Mantegna che è pericolosa, che è intransitabile, nessun vigile urbano, nessun uomo delle forze dell'ordine che può fare la segnalazione perché c'è davvero il rischio di incolumità pubblica. No, evidentemente non va così. Se una strada è sforzata a Partinico non va riparata, se un'altra strada è chiusa perché c'è un balcone pericolante non va riaperta, se uno specchio di indicazione viene rotto non va sostituito. Evidentemente ci sono problemi di mafia così gravi che queste diventano sciocchezze. Io credevo che una gestione commissariale potesse almeno garantire l'incolumità pubblica, invece non è così. Purtroppo la realtà dei fatti mi conferma che io probabilmente vivo nei sogni. Partinico è al di fuori di ogni logica, è una città invivibile e purtroppo devo dar ragione a tutti coloro i quali la abbandonano, chiudono le case e vanno via. Per il momento è tutto, l'Orlando Furioso torna con le prossime edizioni.